E' finita la lima a betone, aia se non è la lima ai casotti di Cotigliano, non è la betone ma è la serie totale, 7 chilometri e mezzo invece di 16. Questi sono, rientrano, è finito tutto, riprendo soltanto le migliori, quelle più comunicative, tutto il resto è fuffa. Non so se sia veramente l'Apart, è la 2002, questa è la prima macchina che ho venduto una volta che mi occupai di auto. Questo è il pomeriggio, questa poi dà rite, dà scelta dalle rite. Ma guardate la rigiorezza, la sinca, la sinca.